benvenuti alla creazione secondo incontro con l'ialu is the religion sigaretta birra vediamo la creazione qua non è come delle altre parti che c'è millenni di storia dietro qua è molto semplice innanzitutto non partiamo con massi informi di materie che non si capiscono bene come funzionano buio non c'è luce qua noi partiamo molto moderni con un bel pc pc mouse birretta allora vediamo la creazione di l'ialu is the religion tasto destro new seleziono microsoft office powerpoint 2007 mi avrò un documento che ci clicco due volte con il tasto sinistro vado su progettazione e scelgo uno degli sfondi che mi dà a disposizione non lo fa scendere allora clicco per inserire la penale positiva perfetto fare clic per inserire il titolo clicco e scrivo lì a lungo vedete lo seleziono scelgo a questo punto mi fa scegliere lo sfondo clicco lo sfondo vedete che già la creazione sta andando avanti riseleziono la scritta torna indietro torna indietro su home non me lo ricordo neanche io come ho fatto pensate come è easy questa religione e scelgo algerian dimensione 80 colore in verde così bene vedete clicco qua inserire il sottotitolo e scrivo easy easy religion un costantia costantia mi dice 26 ma per me va bene colore giallo lo devo risselezionare eccolo qua la creazione di liamon easy religion io ci ho messo mezz'ora perché sono una pippa ma se uno ci prende un po' la mano con questo macroson powerpoint ci mette anche meno e ve lo potete fare comodamente da casa senza acquistare gadget direi che un'offerta del genere non la potete rifiutare liamon easy religion liamon easy religion liamon easy religion grazie grazie